Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di I Soliloquy The End! In questa puntata ritorneremo un po' indietro nel tempo, al tempo del giurassico, perché oggi parliamo del T-Rex. Il T-Rex è questa figura mastodontica incredibilmente enorme che faccia paura a tutti di nonostare i poverenti che scappavano a sapere dove cazzo andare. Ma perché non ci medesimiamo nel T-Rex? Non entriamo nei suoi panni nel vero senso della parola per scoprire i veri problemi che affliggevano questi poveri cucciolenti dei T-Rex, belli, bellini, belletti? Macciamo alle bance e andiamo a vedere questi handicap di essere un T-Rex! Ma questa volta non pensiamo che siamo nel giurassico, pensiamo che un T-Rex nella sua vita quotidiana non riesca a risolvere i semplici problemi che lo perseguitano, partendo per esempio dal mattino. Ma questa volta non riesca a risolvere i semplici problemi che lo perseguitano, partendo per esempio dal mattino. non riesca a risolvere i semplici problemi che lo perseguitano, partendo per esempio dal mattino. non riesca a risolvere i semplici problemi che lo perseguitano, partendo per esempio dal mattino. dopo questa drammaticissima mattinata, il T-Rex purtroppo non riesce a fare altre cose, come per esempio, che ne so, grattarsi la testa! e infine l'ultimo drammatico problema che non riesce a risolvere è quello di spimpettarsi! e infine l'ultimo drammatico e infine l'ultimo drammatico se il video vi è piaciuto, iscrivetevi! spara a lungo piaciuto! e commentate qui sotto quali altri problemi potrebbero affliggere il povero T-Rexino! ciao a tutti! ciao a tutti! ciao a tutti! ciao a tutti! ciao a tutti!